wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un altro mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi abbiamo un'altra missione segreta da completare in questa patch 12.30 poco fa vi avevo fatto vedere in un altro video sul canale youtube la missione per gli orsi con le cinque posizioni dei barattoli di miele ma c'è anche una nuova missione si chiama per gli gnomi e andiamo a vedere subito la prima posizione come vedete ho già pingato siamo nel quadrato c5 esattamente dove c'è la curva del fiume ed esattamente vicino al ponte di legno proprio sotto per la precisione del ponte di legno troverete due gnomi che stanno guardando un telescopio ed eccoli qua ragazzi vi ci avvicinate interagite col telescopio telescopio 1 di 5 fatto per la seconda posizione invece dovete rimanere praticamente dove eravate poco fa dall'ognomo con il telescopio ne approfitto un secondo per fare una foto e andare verso nord come vedete nell'albero esattamente all'opposto trovate ancora una coppia di gnomi vi ci mettete vicino telescopio numero 2 fatto per quanto riguarda invece la posizione numero 3 non dovete allontanarvi siamo sempre nello stesso quadrato ma dobbiamo raggiungere invece questi due gnomi che si trovano in poche parole vedete là in fondo è dove c'erano i primi gnomi quindi ci mettiamo qua track gnomi della terza posizione fatti ovviamente non dovete allontanarvi molto per prendere la quarta coppia di gnomi abbiamo appena preso quelli che erano lì gli altri gnomi sono semplicemente vicini alle teste di pomodoro e di durburger ci avviciniamo dove c'è il falò in poche parole lì ci sono le teste quarta coppia di gnomi fatta spostandosi leggermente dagli ultimi gnomi che abbiamo appena preso quindi lasciandoci alle spalle il falò proseguiamo ed esattamente qua troveremo finalmente gli ultimi gnomi che ci interessano ragazzi quindi per prendere intanto spacchiamo quest'albero che da fastidio per prendere altri 40.000 punti ragazzi mi metto qua che facciamo una bellissima foto agli gnomi ci avviciniamo li prendiamo e quinta coppia di gnomi presa io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale youtube e a quello twitch io sono in live su twitch ciao